Il tempo non esiste, sembrano suggerirci questo le opere che Mimo Paladino ha disseminato a Brescia, dalle piazze cittadine fino al complesso museale di Santa Giulia. Il tempo non esiste perché il dialogo che l'artista instaura con i luoghi si sostiene su una fluidità e un'armonia che stupiscono, perché l'antico e il contemporaneo si fondono senza perdere la propria identità, ma pure senza scarti, come se per l'appunto tutto fosse sempre stato così, al di là dei decenni o dei secoli che separano le diverse creazioni. La mostra Mimo Paladino Overtour inaugura il progetto Brixia Contemporary, realizzato insieme al Comune di Brescia, dalla Fondazione Brescia Musei, diretta da Luigi Di Corato. Ritengo che l'arte contemporanea, già come abbiamo cercato di dimostrare con Cristo, sia un punto di vista sul mondo, non sia solo una decorazione, non sia un orpello, non sia un di cui o un di più, ma sia qualche cosa che ci insegna e che ci aiuta a guardare meglio le cose, compreso il patrimonio storico e monumentale. In quest'ottica ecco che i lavori di Paladino, scultorei, ma anche pittorici entrano nell'anima, se così possiamo dire, del Capitolium oppure della Chiesa di San Salvatore, raggiungendo anche gli ambienti sotterranei. Quello che abbiamo proprio cercato di costruire, Mimo Paladino e Dio, è stato proprio un dialogo filologico, in un certo senso quanto sia possibile utilizzare questo termine non lo so, però rende l'idea, abbiamo lavorato sulle fonti, abbiamo cercato di lavorare sui presupposti, non a caso Paladino è il primo artista che apre il percorso, non a caso Paladino viene da Benevento, non a caso Brescia e Benevento sono insieme nel sito UNESCO dedicato ai Longobardi, quindi tutti i suoi archetipi sono archetipi che poi riguardano anche questa città. Una città che accoglie, complice forse anche la giornata di sole, i lavori di Paladino con naturalezza quasi fossero, e in fondo lo sono, anche se solo per un periodo limitato, un ulteriore tassello di quella stratificazione storica e architettonica che è una delle caratteristiche più intriganti di Brescia. La cosa bella di questa mostra è la cosa diversa e che dimostra che anche su vasta scala innanzitutto Mimo Paladino è un artista straordinario, ma poi che è possibile tentare una via nuova che evita di arredare strade, piazze e musei e che cerca di arrivare all'essenza. Il tempo non esiste, dicevamo, però continua a esistere la meraviglia.